Con la preghiera del Padre Nostro, Gesù vuole rendere consapevoli i Suoi discepoli della loro condizione di figlioli di Dio. Ci rivela questo volto di Dio come Padre che ama fino al dono del proprio figlio per la salvezza dell'umanità. Gesù ci rivela Dio come Padre benevole e provvidente ed è Padre Nostro, cioè di tutti coloro i quali in Cristo sono accolti con amore nella famiglia di Dio. Che sei nei cieli. I cieli dei cieli, è scritto nella Bibbia, non possono contenere colui che ha chiamato tutto all'esistenza. I cieli quindi simbolicamente rappresentano la trascendenza e dichiarano che il Padre è nei cieli, cioè significa che soltanto Lui è l'autorità vera. Si è santificato il tuo nome, la santificazione del nome. Ricordiamo che il nome, cioè la persona, non è semplicemente un titolo, ma che sia riconosciuto veramente per quello che è veramente giusto, buono, provvidente, misericordioso. Venga il tuo regno, cioè si estenda la tua signoria, il tuo dominio, il tuo governo, che è un governo, un dominio di pace, di amore e di giustizia. coloro i quali già fanno parte del suo regno perché esso è stato inaugurato nel cuore del credente, desiderano che si estenda, in questo senso venga, cosicché il nome di Dio sia santificato e la sua volontà sia fatta, sia fatta in cielo come in terra. Che la volontà di Dio si compia, ovvero l'azione del padre, che è un'azione benevola. È questa la volontà di Dio, che ogni uomo diventi suo figlio, figli nel figlio suo diletto. Così Gesù ci libera, ci fa comprendere che non c'è nessuno che ci possa condizionare se non le nostre scelte che facciamo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e soprattutto il pane, letteralmente, al di sopra della sostanza, il pane spirituale. Gesù stesso si definì il pane venuto dal cielo. Dacci il pane della nostra vita. Rimetti i nostri debiti, quindi condona letteralmente i nostri debiti. Ci parla di perdono, di perdono reciproco, nel perdono del Signore. Un atteggiamento che ci permette di perdonare come noi siamo stati perdonati e poter condonare al prossimo e non esporci in tentazione, quindi non lasciarci entrare nella tentazione. Liberaci dunque da quelle situazioni di estremo pericolo per le anime nostre e per le nostre vite. Non farci soccombere, ma liberaci dal male o dal maligno. Il padre comunica vita, mentre il male vuole distruggere la vita. Quando si è fedeli a Dio e al suo progetto benevolo di vita, si riceve persecuzioni e tentazioni a cui Gesù stesso fu sottoposto nel deserto. Liberaci da tutto ciò che ci impedisce di essere fedeli al Signore. Il Padre nostro è dunque una stupenda preghiera, ma soprattutto un modello che scandisca la nostra vita, la nostra relazione con Dio e con il prossimo. Grazie a tutti.